Giovedì 26 giugno 2014, grande successo all'auditorio Untestori a Palazzo Lombardia per il workshop organizzato da Action Group dal titolo Involucro edilizio. Isolgomma ha architettato e realizzato tutta una serie di servizi per il progettista e quindi dalla consulenza telefonica, la consulenza in sito, sul posto, sul cantiere tutta una serie di relazioni acustiche, schede tecniche e certificazioni che aiutano il progettista a realizzare il suo progetto e soprattutto a ottenere i risultati previsti. Oggi parlerò di restauro acustico, abbiamo fatto vari interventi, oggi presenterò un intervento fatto in Austria dove abbiamo restaurato, quindi migliorato l'isolamento acustico di solai e pareti un edificio fatto tutto in legno con una tecnologia X-NAM. Fin da subito gli appuntamenti sono stati molti, abbiamo una lista di appuntamenti fissati circa una cinquantina di contatti, sono per noi molti, so che gli iscritti sono più di 500 quindi ho visto che la sala è piena. Per noi è un investimento importante, abbiamo già dei ritorni, abbiamo partecipato anche l'anno scorso e abbiamo visto che di fatto questo è un ritorno in termini sia di visite, di contatti ma soprattutto ovviamente di fatturato e di vendite e quindi per noi è sicuramente un'attività da ripetere.